Ad una settimana dalla prima campanella, a scuola il Covid crea già i primi problemi, costringendo molti studenti al ritorno alla didattica a distanza. Attualmente sono 127 positivi nelle scuole abruzzesi, di cui 50 nel Teramano, 38 nell'Aquilano, 23 nel Chiedino e 16 nel Pescarese. Nella scuola media Ligieri di Spoltore, ad esempio, un caso di positività al virus ha costretto un'intera sezione alla quarantena. Abbiamo applicato immediatamente il protocollo, ha spiegato al Tg6 il dirigente scolastico. Abbiamo fatto tutte le comunicazioni necessarie per arrivare al dispositivo di quarantena precauzionale per due giorni, necessario per effettuare le verifiche con i tamponi molecolari. Al termine di questi due giorni, durante i quali i ragazzi seguono le lezioni da casa, se i tamponi daranno esito negativo si tornerà sui banchi. Il timore è quello di una scuola a mozzichi e bocconi, come è accaduto lo scorso anno, cioè pronta a fermarsi sistematicamente. Ma tra vaccini e green pass obbligatorio per accedere negli istituti, c'è fiducia che quest'anno le lezioni saranno in presenza. Non siamo preoccupati perché per noi in questa situazione di routine eravamo preparati a un'eventuale situazione di attenzione all'inizio delle lezioni e quindi avevamo già predisposto tutto. Non sono preoccupato perché quest'anno abbiamo la copertura vaccinale, il personale coperto dal vaccino, dai dati che mi sono stati riferiti spontaneamente dai docenti. Ho potuto infierire che siamo sopra il 96% di personale vaccinato. E il Covid porta con sé anche altri tipi di problemi. Ieri gli studenti del liceo scientifico Masci di Chieti hanno manifestato contro gli orari di ingresso e uscita, scaglionati tra le 9.30 e le 14.30. Alcuni rappresentanti sono stati ricevuti dal prefetto, a cui hanno chiesto di rimodulare gli orari che coincidano con quelli dei mezzi pubblici, così che i pendolari non debbano aspettare, in alcuni casi anche per ore, prima che un bus li riporti a casa.